Il prossimo weekend a San Giuliano del Sagno si terrà la settima edizione dello Slalom di San Nicola, Memorial Gianmarco di Vico, organizzata dalla Techno Motor Racing Team e gruppo ufficiali di gara alla casta. La manifestazione mette punti in palio anche per il Trofeo d'Italia, Coppa di Zona C-Sport e per la prima volta sarà considerata una delle tre in Italia, riserva di campionato italiano Slalom. Per questa edizione del 2023, la Kermess, patrocinata dal CONI Molise e Sport e Salute, si è concentrata sulla gara Slalom, puntando sulle aspettative dei piloti che daranno fiducia al gruppo di San Giuliano del Sagno. Un nuovo direttore di gara per lo Slalom di San Nicola arriverà dalla Sicilia, Manilo Mancuso, mentre il resto della squadra sarà composto dal gruppo di lavori di commissari di percorso, provenienti da Molise, Puglia e Frusinate. Un elemento fondamentale per questa gara, che si posiziona sulla linea di partenza, è il capoprova Sandro Ferraccioli, che avrà il compito di garantire il regolare svolgimento delle tre salite. Come ogni anno, la manifestazione ha come obiettivo principale quello di crescere, sia a livello qualitativo che quantitativo. Sono attesi i piloti di grande esperienza per contendersi la vittoria. Anche quest'anno, gli organizzatori dello Slalom di San Nicola, memoria al Gianmarco di Vico, daranno ampia visibilità alla corsa, tramite i propri canali social.